era già da diverse settimane che stavo bene mondiali a parte che l'ho cannata era già da andorra pensavo che le batterie sarebbero forse finite invece evidentemente la primavera continua ad essere la mia stagione chiudo la stagione prima donna di campiglio la stagione di coppa del mondo per fortuna con un buon successo sono contento la mia stagione è stata la dernière individuale oggi e veramente contenta perché io penso che è stata la più dure course dell'hiver o in tutto caso la più difficile a gagnato è veramente il malo in l'inizio della corse e nelle descente Il ha falluto s'accrocher pour aller chercher la victoire et du coup elle est d'autant plus belle.